Mi senti andata? Sono stato ospitato nell'auto di signori che abitano qua un po' più avanti. Stamattina con l'acqua al ginocchio sono riuscito ad andare a piedi, capottandomi anche perché non vedendo con l'acqua al ginocchio c'era tutto coperto. Mi sono anche capottato, quindi ho fatto un bagnetto. Dopodiché è arrivata mia moglie dall'altra parte, con la macchina della pizzeria, mi ha recuperato e sono andato a casa. Ma quindi lei stava facendo la strada normalmente in questa direzione? Esatto, andato verso Vallà. Ed è stato sorpreso dall'acqua. Esatto, e la macchina si è impiantata. Anche perché questa è una zona di buca, questa praticamente, e quindi arriva tutto quanto qua. Scusatemi che provo a cedere. Grazie. Grazie a lei.